Con questa legge ci poniamo l'obiettivo di raccogliere le buone pratiche in materia di riduzione degli sprechi che già si svolgono sul territorio nazionale, ma l'obiettivo principale è uniformare, incentivare e razionalizzare questo percorso positivo e virtuoso e vogliamo lanciare questa iniziativa proprio a pochi giorni dall'inaugurazione di Expo perché l'argomento principale dell'esposizione universale è proprio il cibo, la sostenibilità e l'uso consapevole delle risorse quindi invitiamo il Parlamento e la politica ad assumersi un impegno concreto su queste tematiche.